Buongiorno, siamo questa mattina con Simone Belloni che terrà il corso su Primavera P6 nell'ambito del nostro Master BIM Manager e siamo con lui perché ci racconti i contenuti delle sue lezioni all'interno di questo corso. Perfetto, grazie mille. Innanzitutto è un piacere conoscervi virtualmente, chiaramente. Quello che andremo a vedere nel corso Primavera P6 cercherò di spiegarvelo in maniera abbastanza sistematica e schematica. Personalmente, prima di tutto, giusto per introdurmi, sono chiaramente un consulente specializzato e certificato su Primavera P6. Ormai lavoro su Primavera P6 da, sarà un dieci anni ormai a questa parte, qualcosina in meno. E quindi ciò che vi vorrei far vedere, o comunque vi vorrei spiegare durante il corso, sono i seguenti contenuti. Ok, partiremo sicuramente inizialmente con una spiegazione, quindi sulle nozioni generali per quel che riguarda la pianificazione e il controllo costi. Quindi parliamo proprio delle metodologie e dei concetti che Primavera P6, comunque Primavera, diciamo, su cui è basato effettivamente il software. Quindi innanzitutto parleremo un po' teoricamente sui concetti pianificazione e controllo costi. Sicuramente successivamente entraremo più nel dettaglio sul software e inizieremo chiaramente con una spiegazione sulla navigazione del prodotto, quindi i vari menu, i vari tasti, i bottoni, come fondamentalmente operare all'interno del software. Andremo sempre più in dettaglio, cercherò di spiegarvi le varie strutture che è possibile gestire all'interno del software, quindi le strutture chiamate EPS o OBS, quindi strutture di gestione di multi progetti, piuttosto che strutture di gestione delle, diciamo, organizzative all'interno del progetto, o comunque all'interno di una compagnia e quindi chi sono i responsabili di che cosa all'interno di un progetto o di un portfolio progetti. A questo punto vedremo direttamente all'interno di un progetto, di esempio, come creare la classica VBS, quindi che cos'è una VBS, come crearla, in che modo, quindi qual è la maniera, diciamo, più corretta nel definire una VBS per quel che riguarda il planning, sicuramente in fase successiva creeremo poi il Gantt, quindi andremo a definire le varie attività, quali sono le caratteristiche delle attività, definire le relazioni tra attività, gestire durate, date di inizio, date di fine, insomma, tutte le varie caratteristiche che le attività di un Gantt portano appresso. Poi sicuramente andremo a schedulare, che è questo calcolo automatico che primavera permette di fare delle date di inizio, date di fine delle attività basate sulle relazioni tra queste e andremo a vedere, definire il percorso critico che ne consegue da questo calcolo, quindi capiremo un pochettino come gestire i float, total float, free float, eccetera, eccetera, all'interno della fase di schedulazione. Successivamente andremo a visualizzare, a vedere, a gestire insieme i layout all'interno di primavera, quindi è più un discorso, chiaramente, lato prodotto, quindi più tecnico, effettivamente, però molto, molto importante all'interno della gestione di un progetto con primavera. Successivamente, chiaramente, andremo a gestire le risorse, a vedere quali sono le tipologie di risorse possibili e utilizzabili in primavera, come allocarle, come sfruttarle, come analizzarle, chiaramente, anche con degli specifici report e grafici, assolutamente all'interno dello strumento, come poter applicare, affiancare o definire dei costi associati alle risorse, quindi andremo a visualizzare e gestire, fare un'attività di cost control, in buona sostanza, all'interno del software e, diciamo, creeremo delle reportiste, dei report standard, che possono essere il classico report di confronto tra il pianificato iniziale e, diciamo, l'actual, quindi la situazione corrente, piuttosto che report specifici sulla parte di cost analysis, per poi terminare con la gestione dei periodi finanziari, quindi come poter gestire i periodi finanziari all'interno di primavera, che vantaggi hanno l'utilizzo e quali sono gli svantaggi nel non utilizzarli e con questo tendenzialmente chiudiamo un po' il corso di formazione su questo strumento. Perfetto, grazie Simone, molto chiaro e molto utile. Una domanda, noi abbiamo appunto deciso di introdurre all'interno del master il corso completo su Primavera P6. Secondo la tua opinione, diciamo, professionale, perché un BIM Manager dovrebbe effettivamente saper usare bene questo software? Questa è assolutamente una bellissima domanda, in quanto io credo che Primavera P6, ma anche da esperienza, chiaramente sia uno degli strumenti che hanno definito un po' le basi per poter poi approcciare sul BIM, quindi chiaramente la pianificazione del cost control è una delle dimensioni tendenzialmente del BIM, più il 4D, 5D tendenzialmente, e Primavera P6, diciamo, che ha definito le regole e le, diciamo, guidelines fondamentalmente, linee guida per quel che riguarda pianificazione e cost control negli ultimi 30 anni. Quindi sicuramente per un BIM Manager sapere come funziona Primavera P6, ma tendenzialmente sapere qual è lo strumento di riferimento per la parte di pianificazione e cost control è chiaramente assolutamente necessario, è molto importante. E poi immagino anche il fatto che si abbia uno strumento che ovunque nel mondo viene usato, no? Dovunque tu vada a lavorare avrai a che fare con questo software, insomma. Assolutamente, è il più diffuso, è il più diffuso, sempre ripetendo che sono 30 anni che effettivamente esiste e viene utilizzato, quindi se si va, chiaramente se si partecipa o si lavora a un progetto dall'Australia fino agli Stati Uniti, vedendo proprio tutto il globo, sicuramente Primavera è il top, top strumento per la gestione del planning e cost control. Perfetto, grazie Simone. Ti attendiamo allora per le tue lezioni all'interno del Master. Grazie mille a voi. A presto. Buona giornata. Ciao, ciao.